Cosap è un nuovo modo di gestire il suolo pubblico che ormai in Italia hanno adottato tantissime città, quella soprattutto a vocazione un pochino più turistica che a differenza della Tosa perché era quella che attualmente veniva utilizzata nella città di Arezzo, permette molta più flessibilità e soprattutto l'utilizzo del suolo pubblico anche per migliorare quella che è la competitività della città riguardo di eventi oppure di attività commerciali come possono essere Deore e quindi ci permette in qualche modo di poter migliorare anche il decoro urbano e incentivare l'attività. Abbiamo lavorato tantissimo su tutta la parte delle esenzioni e delle esclusioni fornendo tutta una serie di possibilità di riduzione di suolo pubblico addirittura di annullamento totale per tutte quelle attività che hanno una forte rigatuta per la città, tra queste le truppe cinematografiche che oggi potranno venire come succede già nelle altre città a girare ad Arezzo senza dover pagare suolo pubblico. Abbiamo dato tre edizioni della ferra antiquaria senza il pagamento del suolo pubblico per i nuovi operatori, quindi per chi non è mai stato in città. Tra le novità previste con l'introduzione del canone Cosa, un particolare assist alle imprese giovanili sono infatti previsti alcuni sgravi per le attività under 35. Io credo che siamo i primi, almeno da quello che ho visto io, ad aver creato una regola proprio per gli under 35. Quindi le società composte di giovani possono avere una detrazione del 50% sul suolo pubblico per tre anni consecutivi. Questo magari può incentivare un po' i nostri giovani ad aprire dei bar, ristoranti o comunque un qualcosa che utilizza il suolo pubblico.